Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton. Caccia al ladro a Madrid. Eres tu, Geronimo? Era un tranquillo venerdì pomeriggio a Topazia e io ero nel mio ufficio. Ero impegnato, molto impegnato, anzi impegnatissimo, a cercare una stratopica idea per un nuovo libro? No. A controllare la posta elettronica? Neanche. A fare ricerche per un articolo con i baffi? Nemmeno. O meglio, stavo facendo una ricerca, ma il lavoro non c'entrava. Oh, che sbadato! Non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e dirigo l'Eco del Roditore, il giornale più famoso dell'Isola dei Topi. Quel pomeriggio, come vi dicevo, ero impegnato ad aiutare i miei nipoti Benjamin e Trappi con una ricerca. Zio G, grazie per averci ospitato in redazione. Esclamò Benjamin abbracciandomi. Sì, zio Geronimuccio, grazie. Hai davvero un sacco di libri interessanti sulla Spagna. Faremo una ricerca stratopica. Intanto, Benjamin mi aveva messo sotto il naso un libro che aveva preso dalla mia libreria. Cominciò a sfogliarlo mostrandomi tutte le immagini. Che posto meraviglioso, zio G! La musica gitana, il sole, l'arte. Ah, quanto mi piacerebbe visitare la Spagna! Io sorrisi felice del suo entusiasmo. Magari un giorno ci andrei. Non feci in tempo a finire la frase che il mio telefono squillò. Strano! Avevo detto a Topella, la mia assistente, di inoltrare solo le chiamate davvero, davvero, davvero importanti. Ma allora, chi poteva essere? Resposi e sentì una voce allegra e melodiosa. Geronimo! Geronimo Stilton! Eres tu? Per mille mozzarella! Ma io quella voce la conoscevo bene! Esclamai sorpreso. Anita Topeira! Che piacere sentirti! Ah, quanto tempo è passato da quando studiavamo giornalismo all'università! Benjamin e Trappi si scambiarono un'occhiata perplessa, mentre io continuavo. Studiare fino a notte fonda! Preparare tesine chilometriche per gli esami! Correggere sillaba per sillaba tutti quegli articoli! Ah, che divertimento! Trappi commentò ad alta voce. Divertimento! Geronimetto, mi sa che sei un po' confuso. Come dici, Geronimo? Domandò Anita. Se sono fusa? Io arrossì. Che figuraccia! Scusa, Anita, sono qui con i miei nipoti. Li sto aiutando con una ricerca. Pensa, è proprio sulla Spagna! La mia amica ridacchiò, poi aggiunse misteriosa. Allora la mia telefonata arriva proprio al momento giusto. Io arricciai i baffi per la curiosità, mentre bene Trappi mi guardavano sempre più perplessi. Anita proseguì. Sai che dirigo un giornale qui a Madrid? Ti chiamavo proprio per invitarti a visitare la mia redazione. Perché non vieni a trovarmi questo fine settimana? Ah, e questo fine settimana? Non sapevo che cosa rispondere. Era un invito stratopico, ma avevo promesso ai miei nipoti di aiutarli con i compiti. Anita aggiunse. Naturalmente puoi portare anche i tuoi nipoti. Una gita sarà un ottimo modo per completare la loro ricerca. Davvero posso portare anche loro? A quelle parole, Benjamin e Trappi prima si guardarono, poi guardarono me coi baffi che frullavano per l'emozione e alla fine presero a saltellarmi intorno entusiasti. Ma certo! rispose Anita. Io ho sorrisi. Grazie dell'invito. Verremo tutti e tre con piacere. Fammi sapere a che ora arrivate. Ci vediamo in aeroporto. Mi disse Anita. Appena riagganciai, Ben e Trappi si presero per le zampe ed esultarono. Evviva! Andiamo in Spagna! Ah, che bello vederli così felici! Ma i festeggiamenti furono interrotti da un insistente bussare alla porta. Vengo anch'io, Stiltonino. Non feci in tempo a dire avanti che la porta del mio ufficio si spalancò e comparve il mio amico investigatore, Ficcanaso Squit. Geronimino, come mai tutto questo trambustino nel tuo ufficino? Io cominciai a spiegare. Ciao, Ficcanaso. Mi ha telefonato, ma lui mi fermò. Non dirmi niente, Geronimino. Risolvere misterini è il mio mestiere. Tirò fuori dall'impermeabile la sua lente di ingrandimento e cominciò a setacciare tutto l'ufficio. Io sospirai. Ma perché, perché, perché capitano tutte a me? Ficcanaso ispezionò la scrivania. Guardò in ogni cassetto. Guardò in ogni cassetto. Si infilò persino dietro la libreria. Libri sulla Spagna? Cartine della Spagna? Despliant sulla Spagna? Io intervenni. Come ti stavo dicendo, mi ha telefonato a nit... Ma Ficcanaso mi fermò di nuovo. Aspetta, ci sono quasi! Ah, ho capito! Poi si voltò verso di me. Potevi dirlo subito, Geronimino, che stavi per partire per la Spagna? Benjamine e Trappi scoppiarono a ridere. Mentre io balbettai. Ma, 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 è quello che sto cercando di dirti da mezz'ora, Ficcanaso. Anita Topeira, una mia cara amica e collega, ha invitato me, Benjamine e Trappi, a Madrid. Faremo un tour della città. Anita ci mostrerà la redazione del suo giornale e... Per mille bananille! Tu tutto solo in Spagna con i tuoi nipoti, Geronimino! È evidente che ti serve un aiutino! Io allora domandai confuso. Ah, sì? Esatto! Anzi, non dire altro! Accetto! Dissi, veramente? Ma, Ficcanaso, mi zitti! Geronimino, ti ho già detto che verrò con te a Madrid! Vedrai! Sarà un viaggettino strato picchino! Wow, zio G! Ci divertiremo tantissimo tutti insieme a Madrid! Non vedo l'ora di partire! Esultò Benjamin. Io sorrisi e risposi. Allora, eh... È deciso! Andremo a Madrid per il fine settimana! Benjamin e Trappi erano felicissimi! Saltellarono ancora in giro per la stanza e poi abbracciarono me e Ficcanaso. ci aspettava un viaggio davvero, davvero, davvero stratopico! Bananille da viaggio La mattina dopo, io, Benjamin e Trappi arrivamo puntuali all'aeroporto di Topazia dove ci eravamo dati appuntamento con Ficcanaso. Lo trovammo che ci aspettava seduto davanti all'ufficio informazioni. Accanto a sé, aveva una pila, anzi, un mucchio, anzi, una montagna di banane! Per mille mozzarelle! Ma quante sono? Esclamai io. Ficcanaso rispose. Su, su, Geronimino! Non fare il rugnino! Non lamentarti! È solo la mia scortina da vacanzina! Bisogna sempre viaggiare preparati, e non lo sai! Detto questo, agguantò una banana, la sbucciò e cominciò a mangiarla. Gnam! Ci voleva proprio! E visto che hai le zampine liberine, ti dispiace aiutarmi con le buccine? Zio G, tu aiuta pure Ficcanaso. Noi intanto andiamo a comprare una guida turistica di Madrid. Disse Trappi, trascinandosi dietro Benjamin all'edicola lì vicino. Ma perché, perché, perché capitano tutte a me? Il mio amico prese un'altra banana, lanciò a me la buccia e se la sbappò. Poi ne prese un'altra, e un'altra ancora, 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 e un'altra ancora! Quando i miei nipotini tornarono, Ficcanaso stava divorando l'ultima banana, mentre io ero sommerso da una montagna di bucce. Finisco questa e si parte, disse. Proprio in quel momento, una voce dagli altoparlanti gracchiò. I passeggeri diretti a Madrid sono pregati di presentarsi al Gate 4 per l'imbarco. Ficcanaso esclamò. È il nostro volo! Si alzò di scatto e si misi a correre. Andiamo, zio G! Mi esortarono bene trappi seguendolo. Io mi alzai con le bucce di banana in bilico sulle zampe. E butto queste nel cestino e arrivo! Ficcanaso aveva fatto cadere la buccia dell'ultima banana e io ci avevo messo sopra una zampa ed ero planato sul pavimento come una palla da bowling. Aia, che botta! Mi lamentai. Mi guardai intorno e... Oh no! Avevo sparso bucce di banana dovunque! Tutti i roditori attorno a me scoppiarono a ridere. Che figuraccia! Dopo aver raccolto tutto, anch'io riuscì finalmente a salire in aereo. Vedendomi arrivare, Benjamin disse... Vieni a sederti qui, zio G! Lui e trappi mi avevano tenuto un posto in mezzo a loro. Mi sciolsi come stracchino al sole. Allacciamo le cinture e... Mentre l'aereo decollava, Benjamin mi chiese... Zio G, hai voglia di vedere la guida che abbiamo comprato? Ma certo! E così trascorremo il viaggio a sfogliarla. Era piena di notizie e curiosità su Madrid. Qualche ora dopo, quando atterrammo, la mia amica Anita Topeira ci aspettava in aeroporto. Geronimo Stilton! Che bueno verte! E che maravigliosos nipoti! E chi è questo roditore? Benjamin Trappi e Ficanaso si presentarono. Poi prendemmo un taxi verso l'albergo. Lasciamo i bagagli e poi andiamo in redazione. Disse Anita. Siete curiosi di vedere il mio giornale? Sì! Esclamammo tutti felici. Benvenuti a Madrid! Arrivati in redazione, mi frullavano i baffi dalla felicità. Adoro visitare le sedi dei giornali. Anita ci presentò alcuni dei suoi collaboratori. Conoscemmo il corrispondente estero Esteban Topias, un simpatico gentiltopo con i baffoni. Fernanda Topales, addetta alla cronaca, che ci strinse la zampa e ci accolse dicendoci Bienvenido a Madrid! Per ultimo, Anita ci presentò Diego Malvares della pagina culturale. Un tipo, anzi, un topo, con una vistosa giacca a scacchi rossa e un papillon a righe rosse e verdi. Io provai a dargli la zampa. Piacere! Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e lui mi rispose annoiato. E siete qui in vacanza, ho sentito. Io, invece, sono molto occupato. Devo anche andare a ritirare un papillon nuovo. Adios! Che scontrosino! Disse Piccanaso. Non fateci caso! Rispose Anita. Sembra burbero, ma è un bravo giornalista. Ha solo un difetto. Adora la sua collezione di papillon. Ne compra di continuo. Visto che qui è tutto tranquillo, possiamo iniziare il nostro giro. Vi porto al Museo del Prado e per strada vi faccio vedere qualche monumento madrileno. Salimmo in auto e cominciamo il tour. Che meraviglia! Gridarono in coro Benjamin e Trappi, superando una costruzione di granito a tre archi. È la porta di Alcalà. Ed ecco, nella prossima piazza, vedrete la fontana di Cibele. Spiegò la mia amica Anita. Parcheggiamo proprio lì vicino e raggiungemo in poco tempo la fontana per vederla meglio. Dopo aver scattato qualche foto, ci avviamo lungo il passeo del Prado, il viale che conduceva al museo. Al Museo del Prado! Quando arrivammo davanti al museo, esclamai È stratopico! Il palazzo era davvero imponente. Ci avviamo verso l'ingresso quando il cellulare di Anita si mise a squillare. Lei guardò lo schermo e disse Strano! È un numero privato. Pronto? Chi parla? Mi scusi, non la sento bene. Rimase un attimo in silenzio, poi riprese Un'emergenza? Bien, sì, arrivo. Io guardai Ficcanaso e i miei nipoti con aria interrogativa. Non ci capivamo una crosta. Amici, è successo qualcosa al giornale. Mi dispiace, ma devo andare. Ma certo, dissi io. Tu sei il direttore. Grazie per la comprensione. Voi cominciate pure la visita. Risolvo il problema e torno. Salutammo Anita che sparì nella folla. Che aspettiamo, dissi. Entriamo. Per mille mozzarella. Era il museo più grande che avevo mai visitato. Che sale luminose. E che corridoi lunghi, pieni di quadri. Urca, urca, urca. Che spettacolino. commentò Ficcanaso. Guarda, zio G. Mi chiamò Benjamin, sfogliando la guida. Questo quadro è del 1860... Ma non fece in tempo a finire la frase che le luci si spensero e restammo al buio. Per mille bananille non si vede una crostina di fontina. Esclamò Ficcanaso. Squid! Non so se lo sapete e se non lo sapete ve lo dico io. Ma io non sono un tipo, anzi, un topo molto coraggioso. Soffro il mal di mare, le vertigini, ma soprattutto ho paura del buio. A un tratto qualcuno mi tirò per la giacca. Aiuto! Lasciatemi! gridai. Proprio in quel momento le luci si accesero e... Era trappi a tirarmi per la giacca e quella monella rideva pure di gusto. Io protestai. Ma ti sembra... Ma un rumore fortissimo riempì la sala. Squid! Che cosa sta succedendo? Chiesi. Ficcanaso mi rimproverò. Ai, 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 stiltonino! Non riconosci un allarmino? Sento odorino di misterino! Ficcanaso scattò verso una sala in fondo al corridoio nella quale c'era una gran folla e noi lo seguimmo. Per di là, assistenti! Ci disse. Non siamo i tuoi assistenti e non c'è... alcun mistero! Protestai entrando nella sala. Ne siete sicurini, sicurini, sicurini? Gli assistentini? Certo! Risposi convinto. E allora perché quella parete è vuota? Io mi voltai e... Vedi che la parete era più vuota di una confezione di formaggio sbaffata da mio cugino Trappola. Hanno rubato il parasole! Non feci in tempo a dire nulla perché qualcuno gridò. Hanno rubato il parasole? A parlare, era stata una poliziotta che veniva a passo svelto verso di noi. Cosa, cosa, cosa? Disse io. Ma Ficcanaso mi interruppe. Urca, urca, urca! Chi è questa affascinante eruditrice? Sono Carmen Ratio, ispettrice di polizia. E questa è la scena del crimine. Voi chi siete? Ficcanaso, le fece un galante baciazzampa. Sono Ficcanaso Squid, il famoso investigatore. e sono a sua disposiziontina per aiutarla. E quando avremo ritrovato il quadrettino, la porterò fuori per una cenettina. Squid! Possibile? Ficcanaso si era già innamorato. Mi presentai all'ispettrice e domandai. Il quadro rubato è quello del famoso pittore Francisco Goya? Esattamente. Rispose Carmen Ratio. Ha un valore immenso. Bene, Trappi. Erano molto stupiti. Una piccola tela che è un grande orgoglio per la città. Dobbiamo assolutamente ritrovarla. Concluse la poliziotta. Insieme verizzeremo, ridurremo a zero quel ladro! Commentò Ficcanaso. È il decimo furto d'arte a Madrid quest'anno. Proseguì Carmen. Sospettiamo che sia sempre lo stesso topo, ma non riusciamo a prenderlo. È scaltro, non lascia indizi e usa sempre la tattica delle luci per colpire indisturbato. Ma adesso, con il nostro aiutino, il ladro finirà al freschino. Si pavoneggiò il mio amico Ficcanaso. in quel momento arrivò Anita. Si fece largo tra la folla e ci raggiunse. Amici, state bene? Ci disse salutandoci. Poi, salutò Carmen e ci spiegò. Lei è una degli ispettrici più in zampa di Madrid. L'ho intervistata tante volte per il giornale. Ha risolto casi difficilissimi. Già, ma questa volta ho la sensazione che non ce la farò. Sospirò l'ispettrice. Anita le chiese. Che cos'è successo? I poliziotti controllano tutte le entrate. Ci ho messo mezz'ora per superare i controlli. Hanno rubato il parasole. Uno dei problemi più grossi che ho mai dovuto risolvere. A quelle parole mi ricordai del problema al giornale. Anita, che cosa era successo in redazione? Hai risolto? A dir la verità quando sono arrivata non c'era alcuna emergenza e i miei collaboratori mi hanno detto che nessuno di loro mi aveva telefonato. Strano. Molto strano. Anzi, stranissimo commentai. Hai ragione, ma meglio così. Almeno sono tornata qui subito. In quel momento un agente di polizia si avvicinò a Carmen e le porse un pezzetto di carta spiegazzato. È uno scontrino. L'abbiamo trovato davanti alla parete da cui è stato rubato il quadro. L'ispettrice lo osservò attentamente. Potrebbe averlo perso il ladro. Proprio in quel momento il telefono di Anita suonò di nuovo. Pronto? Chi parla? Rispose Anita. Teresa? Che cosa hai detto? Quando riagganciò era pallida come una mozzarella. Era la mia assistente. Aprendo la posta indirizzata al giornale ha trovato una lettera firmata dal ladro de Il Parasole. Che cosa c'è scritto? Domandammo tutti insieme. Che non si fermerà. Vuole rubare tutti i goia del museo. Gentile redazione. Vi scrivo per dirvi che Il Parasole sta benissimo appeso al muro di casa mia. anche se vi dirò c'è ancora parecchio spazio da riempire nel mio salotto e lo riempirò con tutti i goia del museo. Saluti il ladro de Il Parasole. Una testimone chiave. Quel pomeriggio mentre ci rilassavamo dopo il trambusto al museo Carmen chiamò Anita. Dobbiamo andare al commissariato. Ci spiegò la mia amica. Ci arrivammo di corsa curiosi di sapere le novità sul caso. Ben arrivati. Ci accolse Carmen. Ora che sono qui il ladro ha le ore che dico i minuti che dico i secondi contati. Disse Ficcanaso esibendosi in un altro baciazzampa. Carmen si mise a ridere. Certo soprattutto perché abbiamo una testimone. Ci hanno chiamato i genitori di una piccola roditrice che ha visto un topo sospetto allontanarsi dal museo proprio nell'orario del furto. Stanno venendo qui per i dettagli. Dal fondo del corridoio vediamo arrivare una topina un po' più grande di Benjamin e Trappi insieme ai suoi genitori. Ciao. Ciao. La salutarono i miei nipoti. Io sono Trappi. Io sono Ben. Benvenuta al commissariato Marr. La accolse l'ispettrice Ratio. La topina sorrise. Grazie. Poi Carmen si rivolse ai genitori. Grazie per la disponibilità. Per noi è di grande aiuto avere qui vostra figlia. Intanto Benjamin Trappi e Marr parlavano sempre più fitto. Andavano molto d'accordo. Mamma papà disse a un certo punto Marr. Oggi posso stare con loro? Carmen intervenne. Per noi sarebbe importante e sarà in buona compagnia con i suoi nuovi amici. Le farò qualche domanda in vostra presenza e poi la potrete salutare. I genitori consentirono. Così ci spostammo nell'ufficio della poliziotta. Marr cominciò a raccontare. Ero davanti al museo e ho visto uscire un roditore che teneva sotto il braccio un rotolo. Sembrava un foglio o qualcosa del genere e il tizio continuava a guardarsi intorno. Ficcanaso gridò. Ah ah è il trufficchiolo è l'imbroglione che ha rubacchiato il quadro ha tolto la cornice e ha arrotolato la tela. Carmen domandò com'era vestito? Indossava una giacca a scacchi spiegò Marr. Non l'ho visto bene in faccia ma se lo incontro potrei riconoscerlo. Motivo in più per andare subito esclamò Carmen Ratio. Io allora chiesi eh 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 sì ma dove? Non ci capivo una crosta. Geronimino stai un po' attentino. Mi riprese il mio amico ficcanaso. È ovvio che stiamo andando a a a l'ispettrice rise. Andiamo alla porta del sol. È giustissimo ottimissimo verissimo andiamo la perché 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 ma lei è proprio un detective con i baffi ficcanaso. L'ho presa in giro Carmen poi ci spiegò. L'indirizzo sullo scontrino trovato al museo è di un bar della zona è di poche ore prima del furto. I miei colleghi sono già stati al bar senza trovare indizi ma ora abbiamo un testimone se il ladro è un cliente abituale lo incastreremo. È proprio quello che dicevo io. Taglio corto ficcanaso. Io allora notai ma veramente Geronimino non fare il rugnino non lamentarti anzi preparati che si va subito alla porta del sol. Si alzò ma in quel momento il telefono di Carmen squillò. L'ispettrice rispose Sì capisco arrivo poi ci spiegò non posso venire con voi ficcanaso era disperato eh come e perché sono arrivati i filmati delle telecamere del museo e la lettera devo esaminarli ma ve la caverete benissimo da soli anzi da turisti vi confonderete potrete aiutarci ancora meglio per mille mozzarelle che idea Carmen Rattio era davvero una roditrice in zampa oh mi mancherà parecchino ma tornerò con il ladruncolino concluse ficcanaso così salutammo Carmen e i genitori di Mar che erano stati con noi fino a quel momento e ci avviamo verso la porta del sol un topo agile come te zio G arrivamo alla porta del sol l'enorme e bellissima piazza su cui si affacciava il bar che stavamo cercando restai ad ammirare incantato l'imponente torre dell'orologio e la statua dell'orso e del corbezzolo che si stagliavano contro il cielo ah che meraviglia esclamai che bellezza Geronimino viene a sederti con noi al tavolinino mi urlò ficcanaso in effetti i miei amici avevano già preso posto al bar così li raggiunsi urca 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 il mio fiuto mi dice che il ladruncolino viene tutti i giorni in questo localino commentò il nostro investigatore Anita allora chiese a Mar lo riconosci? la topina si guardò intorno con attenzione ma alla fine scosse la testa no niente da fare non lo vedo da nessuna parte allora lo aspetteremo e intanto Geronimino raccontaci qualcosa di questi monumentini hai studiato vero? io cominciai a sudare freddo veramente sai la partenza su due zampe il furto la polizia Anita mi interruppe tranquillo Geronimo Madrid è la mia città vi farò io da guida Benjamin e Trappi la aiutarono all'improvviso un frastuono alle nostre spalle li interruppe ci voltammo appena in tempo per vedere un tipo anzi un topo che si allontanava di corsa Benjamin disse guardate ha fatto cadere un bicchiere ecco che cos'era quel rumore Trappi ridacchiò zio G quel topo è agile e scattante come te io abampai io non Mar esclamò è lui è il ladro del museo squid l'intuizione dell'ispettrice era giusta il ladro era lì peccato che fosse già scappato mentre noi eravamo ancora incastrati tra i tavoli e non lo avevamo nemmeno visto in faccia ficcanaso si avvicinò al tavolo dove era seduto ed esclamò guardate qui il ladro aveva dimenticato un pieghevole che il mio amico mi mise sotto il naso hai visto che indizzino geronimino sono o non sono il miglior investigatorino ah certo dissi io poi presi il foglio ed esclamai è un programma del teatro real urca 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 disse piccanaso leggendo con me il ladroncolino andrà all'operina di stasera lo sbabbeizzeremo lo smaschereremo le grandi opere classiche teatro real di madrid programma hotello venerdì ore 20 la traviata sabato ore 20 norma domenica ore 20 dobbiamo avvisare subito carmen disse anita sarà felice di sapere che abbiamo una pista la mia amica le telefonò e poi ci aggiornò buone notizie non appena carmen avrà finito con i filmati e la lettera ci raggiungerà piccanaso si illuminò hai minuti contatini zanzacchino ti acciufferemo prestino e i biglietti mancava ancora qualche ora all'inizio dello spettacolo al teatro real così anita ci propose che cosa ne dite di continuare il tour plaza maiore è a pochi metri ma noi faremo un giro più lungo per vedere un altro posto speciale andiamo più lungo mi lamentai ma perché 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 capitano tutti a me i topini andavano così veloci che dopo un attimo io ero cotto geronimello non sarai già stanco mi prese in giro trappi io cercai di protestare ma trappi si era già infilata su per una scalinata che passava sotto un arco e si affacciava su una grande piazza ecco plaza maior esclamò anita è bella ver improvvisamente si bloccò e si mise a ridere ma che sbadata io vi porto a spasso per la città e non ho pensato che per entrare a teatro stasera servono i biglietti non ci ho pensato neanch'io la consolai ficcanaso era disperato per mille bananille niente bigliettino niente ladruccolino ma soprattutto niente poliziottina geronimino musacchiottino di panteganuccia ma che assistente sei io tentai di giustificarmi veramente io ma anche tu anita ci interruppe non preoccupatevi mi basta una telefonata parlò per qualche istante al telefono poi confermò li ritireremo a teatro ficcanaso disse che spacchia che bello rivedrò carmenina voglio dire ora che siamo sicuri di azzuffare il zortucolo possiamo continuare il tour perfetto disse anita prima di raggiungere il teatro devo portarvi assolutamente a vedere il palazzo reale e i suoi magnifici giardini andiamo un'opera movimentata appena arrivamo al teatro real davanti all'ingresso gremito di spettatori trovammo l'ispettrice ratio subito ficcanasole si avvicinò dicendo ispettrice non è strato pechino rivederci per catturare il furbino lei gli rispose sorridendo a proposito di furbino ho visto il ladro descritto da mar nei filmati esterni del museo del prado tiene il pacco con il parasole sotto il braccio ma purtroppo compare sempre di spalle anita le chiese e sulla lettera ricevuta al giornale ci sono novità stiamo aspettando i rilevamenti delle impronte rispose carmen mentre entravamo nel foyer un grande salone affollato di topi che aspettavano l'inizio dello spettacolo anita e carmen conoscevano praticamente tutti mentre benjamin trappi e mar andavano a sbirciare la grande sala del teatro le nostre amiche ci presentarono diversi roditori lui è alvaro topiglio il direttore del teatro lui è fernando al topo un famoso stilista conoscete già il mio collega Diego Malvarez conclusi anita indicandoci un tipo anzi un topo con una giacca nera e un papillon verde smeraldo a pallini gialli lui ci salutò appena impegnato a prendere appunti sul suo taccuino le porte della sala si aprirono così cominciamo a entrare e a prendere posto l'ispettrice ratio si accomodò in una delle file di posti sopra i palchi per controllare la sala dall'alto noi ci sistemammo in platea per cogliere anche i più piccoli movimenti sospetti pochi minuti dopo cominciò lo spettacolo l'opera era così stratopica che quasi mi dimenticai il motivo per cui ci trovavamo lì solo nell'intervallo tra il primo e il secondo atto il mio amico ficcanaso mi tirò per la giacca e mi disse Geronimino non bamblinare e non perdere tempo dobbiamo trovare subito quel babbalochino di ladrino ci alzammo tutti e tornammo nel foyer appena entrammo Marmi prese per una zampa e indicò nella folla Geronimo eccolo è il ladro io cercai di metterlo a fuoco ma si era girato di spalle un attimo dopo sgusciò tra due corpulenti roditori e sparì non gringhicchiare e non oziare Geronimino inseguiamo il musino di babbeino mi misi a correre dietro a ficcanaso e a carmeratiglio che era già scattato in avanti per di là ho visto la coda gridò il mio amico li seguivo con le zampe che mi tremavano e la lingua penzoloni che fifa felina non sono un poliziotto io d'un tratto mi sembrò di vedere la giacca del ladro che svolazzava all'angolo di un corridoio carmeratiglio fece un balzo atletico agguantò qualcuno per una zampa e gridò preso il ladro si voltò e per mille mozzarelle quello non era il ladro bensì la famosa Agatha Rattoneira una delle attrici preferite di mia sorella Thea em ops mi scusi tanto disse l'ispettrice lasciandole andare la zampa poi si rivolse a noi che terribile spaglio ho fatto e la cosa peggiore è che questa volta il ladro è scappato senza lasciarsi dietro alcun indizio mormorò Anita che serataccia abbiamo le prove la mattina dopo ci ritrovammo tutti compreso la nostra nuova amica Mar nella redazione del giornale andiamo nel mio ufficio ci disse Anita dopo averci salutati tra poco arriverà anche Carmen in effetti dopo pochi minuti l'ispettrice Rattio arrivò ho i risultati delle analisi sulla lettera recapitata al giornale disse entrando e sedendosi sembrava piuttosto abbattuta per essere una che aveva appena trovato degli indizi finalmente sapremo chi è il colpevole esultarono i ragazzi come un sol topo non sono stata per niente felice di scoprirlo sospirò la poliziotta il laboratorio ha trovato le impronte di due topi una è Teresa l'assistente di Anita per forza ha ritirato l'aila posta taglio corto la mia amica Carmen sospirò e aggiunse e le altre appartengono a te Anita noi esclamammo in coro cosa? Carmen ci mostrò la lettera e ci sono anche queste macchie di inchiostro le vedete? dimostrano che la lettera è stata stampata proprio nella redazione del giornale Anita noi mesta è qualche mese che la stampante lascia quelle macchioline ma non ho rubato io il parasole abbiamo trovato delle prove anche nel tuo computer c'è una cartella piena di materiale su quel quadro certo ci ho scritto un articolo l'anno scorso quando l'hanno esposto dopo il restauro Carmen Rattio era più mogia di un soufflé sgonfio Anita so che sei una roditrice onesta ma le prove sono tutte contro di te ficcanaso intervenne urca 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 non proprio tutte mar ha detto che riconoscirebbe il ladro se lo vedesse poi si rivolse a mar è lei il ladroncolino io esclamai bravo ficcanaso sei proprio un investigatore con i baffi la nuova amica di benetrappi scosse decisa la testa no sono sicura che non è lei vedi ispettrici ratillo questa topina adorabilina non mi sembra un parapalpolo è una bugiarda insomma una che sbubbola l'ispettrice però rimase seria apprezzo il vostro aiuto ma con queste prove la testimonianza di mar passa in secondo piano ma l'inseguimento al bar il teatro il ladro fuggito protestò ben non abbiamo alcuna certezza che il topo del bar o quello al teatro fosse il ladro forse carmen rattillo aveva ragione eppure a me quella situazione sembrava strana molto strana stranissima tentai pepe però ma anita intervenne amici grazie per avermi difeso ma se le prove sono contro di me andrò in centrale con carmen e risponderò a tutte le domande per mille bananille disse ficcanaso io troverò quel torciucolo carmen lo guardò seria se ne è convinto continui le indagini la autorizzo vi aspetto al commisariato eravamo tristissimi quando salutammo anita e l'ispettrice per mille mozzarelle io ero certo che la mia amica fosse innocente e adesso che cosa facciamo domandai metti in funzia il cervello geronimello la lettera è stata stampata in redazione quindi che cosa significa ecco significa che che non lo so ma guarda che assistente babbiolo che ho significa che qualcuno si è intrufolato al giornale solo per stamparla io esclamai sì giusto e quindi quindi chiederemo ai giornalistini se hanno visto qualche strano negli ufficini parlammo con tutti i colleghi di anita ma nessuno aveva visto nulla di strano dopo quell'indagine inutile tornamo nell'ufficio della mia amica più mogi di un tupino in punizione che disfatta storicchiatevi le casse acustiche assistenti è chiaro logico evidente che ci siamo persi qualcosa esclamò ficcanaso io allora chiusi gli occhi e cominciai a concentrarmi a concentrarmi a concentrarmi Geronimo pensa mi dissi appoggiandomi allo schienale della sedia ma non mi veniva in mente nulla mi sembrava solo di sentire una voce in lontananza che mi chiamava Geronimo 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 poi senti un gran dolore sul sottocoda aprì gli occhi e vedi ficcanaso con una cartelletta in una zampa protestai mi hai fatto male e tu assistente perché non rispondevi a questa topina ti sta chiamando da un minutino mi ero addormentato che figuraccia io arrossì dimmi Mar mi sono appena ricordata di un particolare mi sembra che a teatro il ladro indossasse un papillon non mi ricordo il disegno ma sono sicura che la stoffa era verde e gialla ficcanaso esclamò bravissima Mar è un'informazioncina importantina secondo la nostra guida uno dei migliori negozi di papillon a madrid è del lazzo intervenne ben speriamo che lo abbia comprato lì urca 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 assistenti andiamoci subito e per strada smerendizziamo rosicchiamo qualcosa un inseguimento coi baffi il negozio di papillon si trovava vicino al parco del retiro quando ci arrivammo io ero stanco sfinito spolpettizzato fatemi riprendere fiato dissi ma gli altri non mi sentirono erano ammirati dalla bellezza del parco dopo poco raggiungemmo il negozio che meraviglia esclamarono i miei nipoti le pareti erano ricoperte di coloratissimi e bellissimi papillon assistentino mi disse ficcanaso cerca qualche indizino io non sono il tuo assisten ma il mio amico stava già parlando con il proprietario cerchiamo un babbalocchino con un papillonino verdino e giallino e forse l'ha comprato in questo negozino intanto io ben trappi e mar cominciamo a girare in cerca di qualche indizio ben e mar guardarono con discrezione tra tutti i clienti trappi e io guardammo dietro tutti gli scaffali dei papillon ma niente non c'era nemmeno un piccolo minimo microscopico indizio che disastro mi lamentai proprio in quel momento mar mi tirò per una zampa indicandomi un tipo anzi un topo girato di spalle è lui esclamò il topo si voltò indossava una giacca a scacchi rossi e un papillon verde e giallo per mille mozzarella ma io lo avevo già visto è diego malvares il giornalista che lavora con Anita esclamai ti abbiamo incastrato babbeo intervenne ficcanaso il giornalista ci lanciò un sorrisetto e disse ah davvero? prima dovete acciuffarmi surci con una mossa felina ci lanciò addosso una nuvola di papillon poi scattò e infilò la porta per mille bananille che guguzzo che tipolosco protestò ficcanaso assistenti prendiamolo noi non siamo i tuoi assistenti tentammo di dire in coro ma non c'era tempo per protestare dovevamo inseguire diego malvares al mercato è entrato nel parchettino gridò ficcanaso superando di corse il cancello del parco del retiro correte attraversammo un prato meraviglioso superammo una stratopica fontana sempre di corsa girammo dietro un palazzo tutto fatto di vetro ma di malvares non c'era più traccia fermiamoci un istante e riflettiamo dissi sedendomi su una panchina ma non feci in tempo ad appoggiare il sottocoda che i ragazzi gridarono eccolo va verso l'uscita di nuovo al suo inseguimento uscimmo dal parco e ci infilammo in strade e stradine io ero stanco sfinito spolpettizzato rallentate gridai fatemi prendere fiat ma proprio in quel momento si aprì davanti a noi un grande mercato e il ladro ci si infilò veloce non possiamo riposarci geronimino mi gridò ficcanaso lanciati fra la folla e prendilo cosa 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 esclamai c'era uno stuolo una distesa un'infinità di bancarelle con una folla di roditori che facevano acquisti il mio amico mi tirò per la zampa io e troppi andiamo a destra tu ben e marra a sinistra un carichino doppio di bananille per chi trova il ladrino poi sparì nella folla con mia nipote io ero più cotto di una cacciotta al forno ma ben mi disse forza zio pensa ad Anita si farlo per lei aggiunse mar avete ragione Anita ha bisogno di me mi feci forza e ci tuffammo nel mercato sulle bancarelle vendevano di tutto ventagli marionette libri dischi dopo un po' ci ritrovammo vicino a una bancarella di quadri che meraviglia commentai passando davanti a un paesaggio di madrid ma lo urtai con la zampa e il quadro cadde su quello vicino che cadde su quello vicino che cadde su quello vicino crollò quasi tutta la bancarella tutti intorno scoppiarono a ridere mentre il proprietario mi guardava male squid che figuraccia ben e marra si chinarono per aiutarmi a rimettere in ordine e fu allora che lo videro eccolo gridarono in fondo alla strada c'era Diego Malvares però c'era anche una folla di roditori non l'avremmo mai preso lui ci guardò e scoppiò in una fragorosa risata ma in quel momento una voce disse cucù babbeone sei caduto nel trappolone era ficcanaso squid era arrivato alle spalle del ladro insieme a trappi Diego Malvares era in trappola accompagniamo Malvares al commissariato di polizia dove ci aspettavano Anita e Carmen quando entrammo nell'ufficio dell'ispettrice la mia amica giornalista diventò più pallida di una mozzarella Diego? sei tu il ladro? ma che cosa ti ha saltato in mente? domandò perché hai rubato il parasole? a dire la verità anch'io non ci avevo capito una crosta Malvares sbuffò semplice lo volevo solo e soltanto per me sono io l'unico che capisce il vero valore dell'arte squid che trufficchiolo disse ficcanaso e poi volevo incastrare te proseguì Malvares era un piano perfetto ho rubato la carta e la busta dal tuo ufficio per avere le tue impronte sulla lettera poi l'ho stampata con la stampante del giornale i documenti sul tuo computer ti incastravano caro Malvares questa è una confessione in piena regola intervenne l'ispettrice Ratio lei è in arresto tutte le accuse contro Anita cadono all'istante senza lasciargli dire un'altra parola Carmen e i poliziotti lo portarono via noi esultammo felici giustizia è fatta urrà solo Anita nonostante fosse stata scagionata completamente era giù 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 di morale quando Carmen tornò dopo aver interrogato il ladro Anita le chiese che cosa avete scoperto qual era il suo piano non capisco l'ispettrice spiegò Malvares ha confessato è lui l'autore di tutti i furti d'arte degli ultimi messi a Madrid i miei colleghi stanno andando a casa sua a recuperare tutte le opere rubate ma come è possibile domandò ancora Anita Carmen proseguì l'idea gli è venuta durante l'inaugurazione di una mostra a cui era stato con te per scrivere un articolo ma certo c'era stato un blackout e siamo rimasti al buio per diversi minuti mentre le tele erano esposte senza la protezione degli allarmi ricordò Anita dopo il primo furto Malvares ha capito che il sistema funzionava e ha continuato a usarlo più quadri rubava più ne voleva Anita domandò ma perché voleva far accusare me Carmen Rattio sospirò voleva diventare direttore del giornale con te dietro le sbarre avrebbe preso il tuo posto e non solo come direttore avrebbe avuto accesso alle più importanti collezioni e ai musei di tutto il mondo che muso di Babbeo esclamammo come un sol topo Carmen Rattio concluse ma grazie a voi non succederà mai Anita ci abbracciò con mossa cucina spagnola che bontà quello stesso giorno la polizia riportò il parasole al museo io ficcanaso ben trappi mare Anita eravamo con l'ispettrice Rattio mentre due incaricati lo rimettevano sulla parete è un quadro stratopico che soddisfazione rivederlo e che meraviglia Anita ci disse per ringraziarvi del vostro preziosissimo aiuto stasera siete invitati a cena da me festeggeremo con un menù speciale ficcanaso esultò gnam 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 ho già un certo appetitino e insomma un po' di langurino Carmen passò a prenderci con il suo minivan eravamo in tanti insieme a Mar e andammo a casa di Anita la mia amica ci portò sulla sua terrazza era grandissima e si vedeva tutta Madrid che spettacolo stratopico per ringraziarvi di avermi scagionato dalle accuse e aver ritrovato il quadro ci disse facendoci accomodare a tavola ho preparato un po' di specialità della nostra cucina Madrid è magica la tavola in effetti era apparecchiata con un sacco di delizie c'era una gigantesca padella piena di riso che mandava un profumino delizioso ma anche tanti altri piatti invitantissimi Ben esclamò che padella enorme Anita sorrise è una paelliera e si usa per cucinare la tradizionale paella valenziana cioè questo piatto a base di riso che ho preparato per voi ci sedemmo e gustammo la cenetta io mangiai una scodella di gazpacho un piatto di paella molte patatas bravas una tazza di natillas una crema dolce da leccarsi baffi alla fine ero più pieno di un involtino grigliato che bontà la cucina spagnola zio questa gita a Madrid è stata stratopica mi sono divertito moltissimo disse Ben Trappi prese la sua macchina fotografica e aggiunse e guarda che bei posti abbiamo visitato queste foto ci faranno fare un figurone con la nostra ricerca Anita intervenne e ho ancora qualche curiosità da raccontarvi su Madrid a presto Madrid la nostra piccola vacanza era finita ed era giunto il momento di rientrare a Topazia Anita Carmen Rattiglio e Mar ci accompagnarono all'aeroporto al momento dei saluti Anita mi abbracciò caro Geronimo è stato un piacere rivederti ti sarò sempre grata per quello che avete fatto per me tornate quando volete io ricambiai l'abbraccio dicendo cara amica torneremo presto e passeremo al commissariatino a fare un salutino disse Ficanaso Squit guardando Carmen Rattiglio e voi venite a trovarci a Topazia aggiunsi io gli altoparlanti annunciarono i passeggeri in partenza per l'isola dei topi sono pregati di presentarsi al gate 3 era arrivato il momento di imbarcarsi i nostri amici ci salutarono adios 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 sull'aereo ripensai alla nostra avventura a quanto era stato bello visitare il museo del prato vedere un'opera al teatro real entrare nel parco del retiro girare per il mercato del rastro insomma vivere quella città piena di colori e vitalità festosa e accogliente e voi amici roditori siete mai stati a Madrid a noi è piaciuta moltissimo e secondo me piacerebbe molto anche a voi parola d'onore di roditore a noi è Grazie a tutti